Buongiorno a tutti, bentornati. Siamo in una nuova puntata di questo ciclo di Catechesi Ramadonna degli Iscritti di Maria Valtorto, un ciclo di Catechesi lungo e impegnativo, perché questa è la puntata numero 50, quanto ho potuto verificare prima dell'inizio della diretta. Chiaro che non ci si stanca mai di stare con Maria Santissima, almeno per quanto mi riguarda, meno che mai quando siamo accompagnati da così vivo splendore. Siamo tra l'altro circa a due terzi del libro, per cui potremmo andare avanti anche un po' un po' a lungo. Allora, questa sera abbiamo un bellissimo episodio, non so neanche se riusciremo a leggerlo tutto e a commentarlo tutto, perché è uno dei titoli più mariani che esista. Stasera contempleremo la regina delle vergini, quindi abbiamo affrontato la sezione dedicata ai titoli regali di Maria Santissima, regina degli apostoli e del sacerdozio, l'abbiamo vista la volta scorsa, e regina delle chiese degli angeli nelle due puntate precedenti. Questa sera c'è l'amplissimo capitolo della regina delle vergini, ripeto, è uno dei titoli più mariani per Antonomasia, perché Maria Santissima è anzitutto la Vergine, con la V maiuscola, con tutto ciò che questo termine significa di bello, non soltanto di corporeo, fermo restando che la Madonna è stata la prima creatura a comprendere il valore della verginità, anche corporea. Questo negli scritti di Maria Voltorta appare evidentissimo e appare anche la motivazione per cui la Madonna si sentì fin da bambina inclinata verso la verginità. Questa è una cosa che tra poco la Chiesa ricorderà nella liturgia, nella presentazione di Maria Bambina, il 21 novembre, tra tre settimane. Lei sentì questa cosa perché dice che era stata illuminata sulla causa del peccato presente nel mondo, che evidentemente è la negazione della verginità. Anche qui Gesù nel Vangelo diceva che chi può capire capisca. Quindi ci accingiamo a questa ampia di esamina della Vergine delle Vergini, quindi della Regina delle Vergini, cediamo subito il passo alla lettura perché la sezione è molto molto ampia, per cui ripeto, forse non riusciremo a esaurirla in una puntata, ma tanto sicuramente non ci corre dietro nessuno, non bisogna fare nessuna corsa alla fine, insomma, anzi, qui stiamo tutto il tempo che ci vuole per gustare queste pillole di veramente ruggiata celeste, almeno per quanto mi riguarda. Allora, siamo a Betania presso Lazzaro in uno dei pomeriggi che precedono l'ascensione di Cristo. In una stanza ariosa intorno alla Vergine sono le discepole più fedeli. L'apostolo Bartolomeo ad un certo punto guarda il gruppo delle discepole vergini che si imporpora nei volti come se il raggio del tramonto le colpisse. Ma è fiamma spirituale di gioia intensa quella che le accende. Maria, la Vergine delle Vergini, bianca nella veste di lino, un giglio vestito di candore, china il capo, sorridendo, senza parlare. Vergine delle Vergini. La schiera eletta e innumerevole delle vergini cristiane è nata, si può dire, a Nazareth, nell'umile casetta di Maria, durante il secondo anno della vita pubblica del suo divino figlio. Gesù insieme a Pietro, Andrea e Giovanni bussa alla porta della sua casetta e viene subito ad aprire Maria. Il cui volto si illumina di un fuggito sorriso vedendo il suo Gesù. Bentorni figlio mio, gli dice Maria, da ieri ho con me una pura colomba che ti attende. Viene da lontano e chi l'accompagna non poteva rimanere più oltre. Io, poiché ella voleva consiglio, ho detto ciò che potevo, ma tu solo figlio mio sei Savienza. Bentornati voi pure, venite a ristorarvi subito. Sì, rimanete qui, dice Gesù. Io vado subito da questa creatura che mi attende. La curiosità è viva nei tre in maniera diversa. Ma Gesù non cura nessuno, mentre i tre si decidono ad entrare nella cucina dove Maria offre loro cibarie e tepore di fuoco, Gesù alza la tenda che c'era l'apertura che conduce nell'orto giardino ed esce in esso. Un dolce sole rende ancora più aerei e irreali i rami tutti in fiore dell'alto mandorlo dell'orto. Unico in fiore, il più alto delle piante che sono nell'orto, ricco nella sua veste di sete bianco rosata sulla povertà nuda degli altri. Gesù con le braccia con sete sul petto sorride, ritto nel sole, alla pura, placida grazia dell'orto materno con le sue aiuole di gigli che si denunciano per i primi cespirifoglie, con i suoi rosai ancora nudi. E l'ulivo, così d'argento, con altre famiglie di fiori sparse fra le umili aiuole di legumi e insalate che appena verzicano, puro, ordinato, gentile, pare esso pure spirare candore di verginità perfetta. Qui mi era la tentazione, vorrei fermarmi a lungo ma un piccolo pit stop di qualche secondo bisogna farlo. L'orto della casa di Nazareth, a parte che Maria Valtorta ha una capacità descrittiva veramente fuori del comune perché sembra quasi di essere presente, una penna veramente d'oro, uno stile, un modo di scrivere. Certamente questo è un dono che Dio le ha fatto in vista di quello che doveva fare, ma ha delle piante che sono a casa della Madonna, gli aiuole di gigli anzitutto, poi i rosai, il giglio e la rosa sono due tipici fiori della Madonna per antonomasia, e poi altre famiglie di fiori, e poi c'era anche un piccolo orticello, legumi insalate, curate da lei. E poi questo mandorlo, chissà se era un caso perché se non ricordo male il mandorlo fiorito fu proprio quel ramoscello che fiorendo distribuitero a tutti quanti i promessi sposi pretendenti di Maria fiorì nelle mani di San Giuseppe e la Madonna teneva sempre dentro casa, questo particolare che io ricordo perché gli iscritti di Maria Valtorta danno la possibilità veramente di conoscere un pochino la Madonna, ed è bellissimo anche vedere la personalità per quanto possibile, la sensibilità, i tratti caratteristici, lei in ricordo di questo prodigio insomma che il Signore fece per designare lo sposo, teneva sempre dentro casa un ramoscello di mandorlo fiorito, probabilmente lo prendeva dall'orto suo, io che sono sempre un po' conoscere i dettagli insomma che riguardano Maria Santissima non per pura curiosità, questo è bearsi diciamo così nei prodigi divini è sempre interessante chiedo ci sarà stato a caso o ce l'avrà fatto proprio mettere lei o forse l'ha chiesto proprio a San Giuseppe di piantarlo proprio perché potesse avere in perpetuo il ricordo vivo, no? anche il particolare l'orto puro ordinato gentile pare esso pure spirate candore di virginità perfetta, io innumerevoli volte avrete sentito dirmi durante le catechesi che i nostri ambienti sono lo specchio di quello che noi siamo, non c'è niente da fare, pensiamo alle cose che abbiamo tutte, io per esempio sono un prete, come tengo la chiesa, come tengo la sagrestia, come tengo la canonica, come tengo la camera, come tengo gli armadi, come tengo la macchina, cioè come tengo la persona, quindi noi dobbiamo sempre pensare che la nostra personalità non soltanto la nostra personalità come dono intrinseco ma anche la nostra spiritualità diciamo così si riflette in tutto quello che noi facciamo, tutto, quindi quell'orto è l'orto di Maria, se uno l'avesse visto rimaneva incantato, che cosa c'è di diverso, cioè non è che ci sono delle cose, ma è come è tenuto, quindi questo è molto importante, non sono particolari secondari, non sono esteriorità, io negli anni passati ho fatto tante 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 catechesi, le sottoscrivo quelli lì, sulla modestia femminile ma anche maschile insomma su tante altre cose perché non bisogna dinanzi a questi tipi di messaggi come dire fare un opposizione a priori oppure come dire un'adesione cieca e a prioristica, no? Vabbè, ma occorre interiorizzare il fatto che a un certo come dire stile di vita, a una certa tensione interiore, ad una certa spiritualità non può non corrispondere un certo esteriore, perché noi non siamo non siamo schizofrenici, non siamo folli, non siamo dicotomici, non abbiamo la doppia personalità, non abbiamo un esteriore come dire diversificato o meglio in opposizione addirittura con il nostro interiore, ma adesso ne è l'espressione, guardate un attimino, ok riprendiamo la lettura Gesù entra nella cameretta materna, sempre la casta, castissima cameretta che ha sentito le parole dell'angelico colloquio ed emana ancora più dell'orto l'essenza virginale, angelica, santa di colei che l'abita da anni e dell'arcangelo che in essa ha venerato la sua regina. La tenda viene alzata lentamente dalla mano di Maria, Gesù che con le spalle voltate alla porta in piedi contemplava quel nido di purezza, si volge. Ecco figlio mio, dice Maria, io te la conduco, un'agnella e tu sei il suo pastore e Maria che è entrata tenendo per mano una giovinetta, brunetta, snella, che arrossa vivamente apparendo al cospetto di Gesù, si ritira dolcemente lasciando ricadere la tenda. E adesso qui chi non conosce gli scritti o chi non conosce questo brano occorre veramente fare un sospirone perché c'è un dialogo meraviglioso tra Gesù e questa giovane fanciulla. La pace sia a te fanciulla, la pace signore, la fanciulla molto emozionata resta senza parole, ma si inginocchia col capo verso terra. Alzati, che vuoi da me? Non avere paura. La ragazza dice, non paura ma ora che ti sono davanti, dopo averlo tanto voluto, tutto quello che mi pareva facile, necessario dirti, io non lo trovo più, non mi pare più quello. Stolta suona, perdona mio signore. Chiedi grazia per la terra? Interviene Gesù. Hai bisogno di miracolo? Hai tanto coraggio avuto ed ora ti manca? Non sai che io sono colui che aumenta fortezza? Sì, lo sai? E allora su parla, come fossi un padre per te. Sei giovane, quanti anni hai? Sedici, signore mio. Da dove vieni? Da Gerusalemme. E che nome hai? Annalia. Il caro nome della nonna mia e di tante altre sante donne di Israele e con esso a farne uno solo, quello della buona, fedele, amorosa e mansueta moglie di Giacobbe. Ti sarà augurale, sarai sposa e madre esemplare. No, scuoti il capo, piangi? Sei forse stata respinta? Neppure? È morto l'uomo a te promesso? Ancora non sei stata scelta? La giovinezza, la giovinetta scuote sempre il capo. Gesù fa un passo, la carezza e la forza ad alzare il capo e a guardarlo. Il sorriso di Gesù vince l'orgasmo della fanciulla. Sì, rinfranca. Mio signore, io sarei sposa e felice e per merito tuo. Non mi riconosci, signore mio? Sono la malata di Tisi, la morente fidanzata che tu hai guarito per preghiera del tuo Giovanni. Dopo la tua grazia io ho avuto un altro corpo. Sano questo, il luogo di quello che avevo prima, morente. E ho avuto un'altra gioia, ho avuto un'altra anima. Non so, non mi sentivo più io. La gioia di essere guarita, la certezza perciò di potermi sposare, era il mio rimpianto nel morire. Questo non giungere ad essere sposa. Non sono durate che nelle prime ore. E poi la giovinezza si fa sempre più franca. Ritrova le parole e le idee perdute nello sconvolgimento di essere sola col maestro. E poi ho sentito che non dovevo essere solo egoista, pensare solo, ora sarò felice. Ma che dovevo pensare a qualcosa di più. E che venisse a te e a Dio, tuo e mio padre. Qualche piccola cosa, ma che dicesse che ero grata. Ho molto pensato e quando il sabato successivo ho veduto lo sposo, gli ho detto, ascolta Samuele, senza il miracolo io sarei morta fra qualche mese e per sempre mi avresti perduta. Ora io vorrei fare a Dio un sacrificio. Io con te per dire a Dio che lo lodo e lo ringrazio. e Samuele ha detto subito, poiché mi ama, andiamo al tempio insieme ad immolare la vittima. Ma io non volevo questo. Sono povera e popolana, mio signore. Poco so e meno posso. Ma attraverso la tua mano posata sul mio petto malato qualcosa era venuto non solo nei polmoni corrosi, ma dentro al cuore. Nei polmoni salute, nel cuore sapienza. E capivo che il sacrificio di un agnello non era il sacrificio voluto dal mio spirito che ti, la ragazza si ferma, che ti amava. la fanciulla tace arrossendo dopo questa sua professione d'amore. Continua senza timore, interviene Gesù. Che voleva il tuo spirito? Sacrificarti cosa degna di te, figlio di Dio. E allora io pensavo che dovesse essere cosa spirituale, come ciò che è da Dio. ossia il mio sacrificio di attesa alle nozze per amore di te, mio Salvatore. Grande gioia le nozze, sai? Quando ci si ama è grande cosa. Un desiderio, un'ansia di compierle. Ma non ero più quella di pochi giorni avanti. Non volevo più questo come la cosa più bella. L'ho detto a Samuele, ed egli mi ha capita. Lui pure ha voluto farsi nazir per un anno, cominciando dal giorno che avrebbe dovuto essere quello nuziale, ossia il giorno dopo le calende di Adar. Adar, per chi non lo sapesse, è il calendario ebraico, è il mese di marzo. Le calende, ecco, cadono verso la fine del mese, perché ci sono le none, le idi e le calende. Intanto è venuta alla tua ricerca per amare chi gli aveva resa la sposa, amarlo e conoscerlo te. Questo era il fidanzato, Samuele. E ti ha trovato dopo molti mesi all'acqua speciosa. Io pure sono venuta. E la tua parola ha finito di cambiarmi il cuore. Ora non mi basta più il vuoto di prima. Come quel mandorlo lì fuori, che sotto il sole è sempre più caldo e rinato dopo essere stato morto per mesi, e ha messo fiori e poi metterà foglie e poi frutti, così io ho sempre più progredito nella sapienza di ciò che è migliore. L'ultima volta, ormai sicura di me e di ciò che volevo, per tutti questi mesi io ci ho pensato, l'ultima volta che sono venuto all'acqua speciosa tu non c'eri più, ti avevano cacciato. Ho pianto tanto e tanto pregato che l'Altissimo mi ha esaudita, persuadendo mia madre a mandarmi qui con un apparente che andava a Tiberiade per parlare col tigene del tetrarca. Il fattore mi aveva detto che qui ti avrei trovato. Ho trovato la madre tua. E le sue parole, solo l'udirla e starle al fianco in questi due giorni, hanno finito di maturare il frutto della tua grazia. La fanciulla si è inginocchiata come davanti ad un altare, con le braccia concerte sul petto. E adesso Gesù è uno spettacolo, questo è un episodio esemplare anche per noi preti, come se si tengono i colloqui spirituali. Va bene, ma che vuoi di preciso? Che ti posso fare? Signore, io vorrei una grande cosa. E tu solo, datore di vita e salute, me la puoi dare. Perché io penso che ciò che tu puoi dare, tu anche puoi togliere. Io vorrei che la vita che mi hai dato, tu me la levassi durante l'anno del voto mio, prima che esso abbia termine. E Gesù, ma perché? Non sei grato a Dio della salute avuta? Della salute avuta? Tanto, senza misura, ma per una cosa sola. Perché vivendo per sua grazia e per tuo milacro ho compreso il migliore. Che è? Dice Gesù. E lei? Che è vivere da angeli, come tua madre mio Signore, come tu vivi, come vive il tuo Giovanni, i tre gigli, le tre fiamme bianche, le tre beatitudini della terra, Signore. Sì, perché io penso che è beatitudine possedere Dio e che Dio sia possesso dei puri. Il puro, io credo, sia un cielo col suo Dio al centro e gli angeli intorno. Oh mio Signore, questo vorrei. Poco ti ho udito e poco tua madre e il discepolo e Isacco. Altri non ho avvicinato che mi dicessero le tue parole, ma mi sembra che lo Spirito mio sempre ti senta e tu gli sia maestro. Ho detto, mio Signore. Analia, dice Gesù, molto è ciò che chiedi e molto è ciò che dai. Figlia, hai compreso Dio e la perfezione a cui la creatura può salire per somigliare al Purissimo e per piacere al Purissimo. Gesù ha preso fra le sue mani la testa bruna della fanciulla inginocchiata e le parla stando curvo su di lei. Colui che è nato da una vergine perché non poteva che farsi nido su un cumulo di gigli è nauseato, figlia, della libidine triplice del mondo e piegherebbe schiacciato da tanta nausea. Se il padre, che sa di che vive il figlio suo, non intervenisse con amorosi aiuti a sostenere la mia anima angosciata. I puri sono la mia gioia. Tu mi rendi ciò che il mondo mi leva con la sua inesausta bassezza. Ne sia benedetto il padre te, fanciulla. Va tranquilla, qualcosa interverrà a fare eterno il tuo voto. Sì uno dei gigli sparsi sulle sanguinose vie del Cristo. Oh mio signore, riprende Annalia, io vorrei ancora una cosa. Quale? Non esserci alla tua morte. Non potrei vedere morire colui che è la mia vita. Gesù sorride dolcemente e con la mano asciuga due righe di pianto che scendono sul visetto bruno. Non piangere, i gigli non sono mai a lutto. Tu riderai con tutte le perle della tua corona angelica quando vedrai il re coronato entrare nel suo regno. Va, lo spirito del Signore ti amma estri fra l'una e l'altra delle mie venute. Io ti benedico con le fiamme dell'eterno amore. Gesù si affaccia all'orto e chiama Madre, ecco una piccola figlia, tutta per te. Ora è felice, ma tu immergila nei tuoi candori. Ora e ogni volta che alla Città Santa andremo perché sia neve di petali celesti sparsa sul trono dell'agnello. E Gesù torna dai suoi mentre Maria carezza la fanciulla rimanendo con lei. Pietro, Andrea e Giovanni lo guardano interrogativamente e il viso splendente di Gesù dice loro che è felice. Pietro non si tiene e chiede. Con chi hai parlato tanto, maestro mio? E chi udisti per essere così luminoso di gioia? Con una donna all'alba della vita, risponde Gesù, con colei che sarà l'alba di tante che verranno. Chi? Le vergini, dice Gesù. Andrea mormora piano a se stesso, non è lei. No, non è lei, dice Gesù. Ma non stancarti di pregare. Paziente buono, ogni parola della tua preghiera è come un richiamo, un lume nella notte e la sorregge e la guida. Quello di cui parla Andrea, lo ricorderemo, chi ha seguito questo ciclo di catechesi, è la mima. Aglai, la grande convertita da Andrea all'acqua speciosa. Ma chi aspetta mio fratello? Un'anima, Pietro, risponde Gesù. Una grande miseria che egli vuole mutare in una grande ricchezza. E dove l'ha trovata, dice Pietro. Andrea che non si muove mai, che non parla mai, che non ha mai iniziative. Sul mio sentiero, risponde Gesù. Vieni con me, Andrea, andiamo da Alfeo a benedirlo fra i suoi molti nipoti. Voi attendetemi in casa di Giacomo e Giuda. Mia madre ha bisogno di essere lasciata sola per tutto il giorno. E andando così, chi di qua e chi di là, il segreto fascia la gioia della prima consacrata per amore del Cristo alla verginità. Ho voluto leggere fino alla fine, non fare altre fermate, salvo l'introduzione perché mi sembrava opportuno fare una lettura continua di tutto quanto questo splendido brano, per tutto quello che ne esce fuori. Allora, dicevo che questa è una lezione anche di autentica direzione spirituale. È chiaro che Gesù sapeva perfettamente la storia di questa ragazza, no? Ma, e questo è importantissimo anche per capire come Gesù opera e come la grazia opera nelle anime. Cioè, Gesù la fa parlare, non dice assolutamente nulla, non interviene, non dice le cose prima del tempo. Lascia, cerca di metterla a suo agio perché questa ragazza possa tirare fuori gradualmente tutto quello che ha vissuto e dirglielo. Questa è una grande lezione e accennavo anzitutto a noi padri spirituali. Quindi, la prima cosa è trarre questo grandissimo insegnamento che non è soltanto per i padri spirituali, ma anche per tutti quanti noi. Cioè, quello che noi dobbiamo sempre ricordare è che davanti a Dio dobbiamo imparare ascoltando la voce della nostra coscienza che Dio sollecita e dove Lui stesso ci parla, a fare le nostre scelte. Ora, qui c'è un magnifico elogio della verginità. Adesso, mi raccomando, chi ascolta queste cose, secondo il mio stile attuale, che tendo sempre a mettere le mani avanti, non di impedire che qualche cattiva recezione possa poi guastare alla bellezza delle cose. Allora, l'elogio della verginità non vuol dire il disprezzo del matrimonio. Quindi, le persone che sono sposate, che si accostano a questo brano, possono essere edificate senza sentirsi mortificate. Ecco, diciamo subito una cosa di questo genere. È molto importante questo, perché altrimenti si comincia a far prendere, insomma, gli sconforti. Ci possono anche essere persone che purtroppo, come dire, non hanno custodito la verginità. In questi tempi, certamente, non è affatto facile custodire la verginità. Ecco, quindi, conseguentemente, possono succedere degli incidenti. Certamente, la verginità conservata è un dono grande, d'accordo? Si ricordi che a fianco a, come dire, Annalia, tra le discepole predilette di Gesù, c'era Maria di Magdala, che tutto era, meno che vergine, ma la penitenza e l'amore gli hanno fatto talmente tanto recuperare il terreno perduto che Maria di Magdala, come sappiamo dai Vangeli, è stata la prima, eccettuata la Madonna, a vedere Gesù risorto. Quindi, insomma, non è un privilegio di tutti, d'accordo? È vero che Annalia era morta, perché poi questa cosa sarà messa in pratica da Gesù. Annalia morirà quando Gesù passò trionfante a Gerusalemme. Gli prese, insomma, a Roma si dice un coccolone, insomma, quando lo vede sulla terrazza, fece un grido e venne meno. Ecco, una morte d'amore, probabilmente, insomma, no? Prima che Gesù morisse, come gli aveva promesso in questo brano. Quindi, queste premesse devono essere fatte, perché nessuno, sentendo questa storia, dal momento che oggi la verginità è cosa rara, nessuno deve sentirsi assolutamente, in nessun modo, colpito, ferito da questa cosa. Ecco, d'accordo? Ecco, detto questo, occorre fare uno step ulteriore. Cioè, andiamo a parlare un po' di verginità. Oggi di verginità si deve parlare. Allora, io personalmente, quando ascolto queste cose, vedete, cioè, questa ragazza ha interiorizzato profondamente la bellezza della verginità, che non è una cosa che si oppone al matrimonio. Io questo qui, in parte, l'ho vissuto. Chi conosce la storia della mia vocazione l'ho detta pubblicamente, lo sa, questo fatto qui. Io, per grazia di Dio, ho vissuto un fidanzamento casto, per grazia di Dio, quindi io capisco di cosa si parla quando si parla di verginità, per grazia di Dio, non certo per merito mio. E ho, anch'io, vissuto, cioè, la percezione della verginità perpetua non come una cosa, come dire, dipendente da un disprezzo del matrimonio. No, 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 ma come una cosa ancora più bella. Cioè, il matrimonio è una cosa bellissima, ma c'è il top. Perché il top? Perché la verginità, purché sia vissuta bene, d'accordo, perché la verginità fisica non basta. Perché se un consacrato o una consacrata non vive veramente in una dimensione nuziale, cioè, questa ragazza era innamorata di Gesù. Cioè, quando gli appare davanti Gesù, dice io adesso, ho cominciato a sentire che ti amo, gliela ha detto. Ed era così. Allora, la verginità non è altro che la stessa cosa che si vive nella sponsalità tra un uomo e una donna. Ecco perché il matrimonio è figura dell'amore di Cristo con la Chiesa. Cioè, è figura perché viene vissuto in forma umana tra due creature umane ciò che è il mistico rapporto tra Cristo e la Chiesa come corpo sociale. Ma ciò che la Chiesa come corpo vive con il Signore, lo vive ogni anima di un battezzato, ma in maniera perfetta e completa, sublimata, al top, un'anima vergine. Un'anima vergine. Ecco perché la Madonna è vergine, ecco perché Gesù è vergine, ecco perché San Giovanni è vergine. Quindi, questo è un valore altissimo, questo qui. Ma se uno ci pensa, io questo lo dico sempre, anche per chi ha la vocazione al matrimonio, perché la verginità è per tutti. Noi dobbiamo metterci in testa bene una cosa, la verginità è per tutti, cioè i figli di Dio sono vergini, d'accordo? Poi qualcuno perde la verginità del corpo, perché però? Per vivere questa dimensione sponsale che è insita dentro la verginità con una creatura. Ma, capite, un matrimonio è veramente un matrimonio, anche qui non voglio mettere in croce chi queste cose non le ha vissute, però, capite, cioè noi dobbiamo parlare dell'ideale. È sempre possibile recuperare ogni cosa perché c'è il pentimento, c'è la confessione, quindi mi raccomando, nessuno, sentendo queste cose, si faccia prendere dai patemi. Però, capite, due ragazzi che arrivano vergini al matrimonio, e ci possono, e ci devono arrivare anche oggi, è la cosa più bella che possa succedere. Ma voi capite il ti amo che si dicono uno con l'altro quanto è autentico, quanto è vero, cioè, non mi conosce, cioè, a menudo, scusate se sono così esplicito, eh, cioè, a menudo, nuda, non mi ha mai visto nessuno, non mi ha mai visto nessuno, mi vedi soltanto tu, questo è solo per te. Ma non sarebbe una cosa stupenda, meravigliosa, cioè, tutti quanti i no che si sono detti prima del matrimonio, io ho detto tanti no, ma perché io potessi essere solo tuo, cioè, dietro tutti quanti i no che ho detto, anche tutti i sacrifici che ho fatto, c'è questo dono che ti ho fatto, cioè, capite, è uno che può dire una cosa di questo genere al marito o alla moglie, e così vivono i cristiani, cioè, noi oggi stiamo vivendo, cioè, noi stiamo vivendo veramente in un tempo di corruzione assoluta, d'accordo? Cioè, questo dovrebbe essere la norma, cioè, sappiamo benissimo che non è così, perché la verginità, se si capisce bene, è vocazione all'amore. Allora, la verginità, con cui tutti quanti nasciamo e che deve essere custodita, non solo nelle donne, ma anche negli uomini, eh, perché non è che siccome gli uomini non hanno il sigillo della verginità, possono fare quello che gli pare. Nine vale per l'uno e vale per l'altra. Il sigillo o nel sigillo non fa niente. Allora, questa vocazione, perché la verginità è quella purezza capace di riconoscere e di accogliere l'amore, di darlo. Beati puri di cuore perché vedranno Dio. Qui lo cita Gesù, no? Perché saranno capaci di riconoscerlo, di accoglierlo e di ricambiarlo. Allora, un amore verso una creatura comporterà la perdita, certamente della verginità fisica, ma non di quella nel cuore, d'accordo? Perché se uno ha la vocazione al matrimonio, si sposa, arriva al matrimonio come Dio comanda, rimane fedelissimo anche durante il matrimonio, anche col pensiero, non perde la purezza del cuore, perde la virginità del corpo. Però la virginità del corpo, vissuta in maniera sponsale, è il top. Questo la Chiesa, così è sempre stato e così è tuttora. Se si apre il Catechismo della Chiesa Cattolica, così è tuttora. La virginità è stata sempre considerata in una condizione di oggettiva eccellenza, si dice così tecnicamente, rispetto al matrimonio. Perché? Per un motivo molto semplice. Perché la virginità rappresenta la pienezza della sponsalità con Dio vissuta già su questa terra, quello che tutti vivremo nell'altro mondo. Il discorso che Gesù faceva alla domanda dei Sadducei, no ma questa ce l'hanno avuto, ci ha avuto sette mariti, nell'altro mondo di chi sarà il marito? Nell'altro mondo non ci stanno i mariti, perché nell'altro mondo sono tutti quanti angeli. Questa gli dice tu hai compreso che cosa è vivere da angeli. Anzi, questo veramente glielo dice Annalia. Dice per tuo miracolo ho compreso il migliore, la cosa migliore. Qual è la cosa migliore? Vivere da angeli. I veriti d'angeli vuol dire non conoscere o non voler conoscere i piaceri venerei. D'accordo? Perché gli angeli i piaceri venerei non ci stanno, non ce l'hanno. In paradiso i piaceri venerei attenzione non ci stanno, perché quando Gesù dice ai Sadducei passo che ho appena citato i figli dell'altro mondo non prendono né moglie né marito, cosa sta dicendo? indirettamente ma è evidente questo qui che la sessualità umana è circoscritta alla vita terrena all'interno peraltro del sacramento del matrimonio. Stop! D'accordo? Poi non ci sarà. Ma questo che significa anche? Significa che oggi è stato fatto cioè oggi praticamente sesso uguale felicità sesso uguale il bene sommo come si fa guardate le interviste che fanno in giro a Edoardo Varestegui ci sta una playlist sul mio canale YouTube che si chiama La Purezza dice un'intervista a Claudia Goll grande peccatrice convertita Edoardo Verstegui grande attore bellissimo che confessa candidamente di vivere la castità e dovete vedere la gente dice che cosa e come fai a vivere senza? Edoardo Verstegui risponde ma come faccio a vivere senza? ma stiamo scherzando io non posso vivere senza mangiare posso fare un digiuno oggi è venerdì benedetto chi ha fatto il digiuno oggi però a mezzanotte se finisce il digiuno no non è che possiamo tutta la vita così cioè perché non possiamo vivere senza mangiare non posso vivere senza bere non posso vivere senza dormire ma chi l'ha detto che non si può vivere senza il sesso? ma chi l'ha detto questo qui? Gesù Cristo ha vissuto oggi oggi non voglio più credere ai preti ai vescovi con tutto quello che succede va bene non ci credere ma Gesù Cristo è vissuto così la Madonna è vissuta così San Giovanni è vissuta così sta proprio tranquillo e non è che hanno fatto una vita umana a metà cioè chi non vive questa dimensione non è che fa una vita umana a metà fa una vita umana al doppio d'accordo perché vive da uomo e vive pure da angelo non so da uomo o da donna capito? quindi c'è una vita sublimata non una vita menomata oggi invece si intende la persona casta o vergine come una persona menomata cioè poveretto questo qui non sa neanche cosa è la vita che questo lo pensino come dire se vogliamo utilizzare una terminologia biblico neotestamentare i pagani peccatori va beh ma siamo sicuri che tanti cristiani tanti figli di Dio anche cosiddetti praticanti che si sono rifatti un po' la fede a propria immagine e somiglianza non pensino allo stesso modo tutti quanti battezzati e cresimati oggi sono convinti del valore della verginità la conservano ci combattono ne parlano la predicano sono felici io non cambierei quello cioè ma con niente al mondo d'accordo con niente con niente io capisco quello che dice questa ragazza è anche l'evoluzione che ci ha avuto le nozze sono una cosa bellissima l'ho desiderato per tutta la vita cioè io questo è una cosa che io per anni ho desiderato una cosa dopo se conosci quest'altra cosa questa è più grande capito e quindi relativizza quella che quando c'è quest'altra più grande diventa più piccola per forza è così capite per far capire quando staremo in paradiso cioè che veramente lì finalmente godremo un po' come Dio comanda cioè le bagattelle di questo mondo cioè le piccole come dire soddisfazioni di questa vita terrena che ne so un bel film una bella passeggiata nel bosco tutto quello che vogliamo pensiamo tante le cose belle della vita una bella vacanza un bel posto di mare un bel posto di montagna adesso non mi vengono in mente un bel pranzo una bella cena una bella dormita su un bel letto quando uno c'ha sonno cioè tutte queste cose qui quando saremo nell'altro mondo cioè neanche ci penseremo più cioè faranno ridere i polli perché se tu conosci la beatitudine le piccole consolazioni che per carità adesso se il Signore ce le manda lo ringraziamo no? qui non ci abbiamo nient'altro insomma salvo chi si dedica un po' alla contemplazione alla preghiera profonda sì qualche tocco da parte dell'Altissimo ma non è il paradiso proprio paradiso qui ma quando staremo dall'altra parte ma che è sta roba? capite? non perché non siano oggettivamente dei piccoli beni ma perché dinanzi a ciò che è più grande ciò che è più piccolo viene relativizzato ok? quindi le persone santamente sposate un tempo questo era non devono avere affatto come dire neanche paura di avere una grandissima stima della verginità di parlare bene della verginità di parlare con ammirazione della verginità di non considerare le persone vergini uomini o donne a metà e al contrario i consacrati e consacrate e le consacrate i vergine e le vergini non devono avere nessun tipo di disprezzo né di senso di superiorità nei confronti del sacramento del matrimonio perché chi ha la vocazione al matrimonio se le esposa cioè la verginità la verginità perfetta è certamente un'offerta della creatura al creatore ma è anche una risposta ad una vocazione non tutti hanno questa vocazione a vita ecco quindi chiudo il perché facciamo il tempo a terminare si riusciamo a leggere l'ultimo tratto parlando poi alle sue discepoli Gesù disse loro ieri una fanciulla mi ha chiesto che io la immoli perché questa non è sia soltanto consacrata questa ha anche offerto la sua vita quindi verginità e martirio verginità essere vittime due cose generalmente legate insieme no ieri una fanciulla mi ha chiesto che io la immoli prima che scocchi per lei l'ora delle nozze cioè allora siccome ancora non esisteva la verginità consacrata la va soltanto la Madonna e San Giovanni questa le dice fammi morire prima che finisca il voto cioè perché se finisco il voto poi quello mi vuole sposare e io non voglio più perché sente che mi ama come va amato Dio ossia con tutta se stessa alla perfezione assoluta del donarsi ed io lo farò le ho nascosto l'ora perché l'anima non tremi di paura più che l'anima la carne la sua morte sarà simile a quella del fiore che chiude la colonna una sera credendo aprirla ancora il giorno dopo e non l'apre più perché il bacio della notte ha aspirato la sua vita e lo farò secondo il suo desiderio anticipando di pochi di di pochi giorni il suo sonno di morte dal mio per non farla attendere nel limbo questa mia prima vergine per trovarla subito sul mio morire non piangete io sono il redentore ma questa fanciulla santa che non si è limitata all'osanna subito dopo il miracolo attenzione qui eh ma ha saputo lavorare il miracolo come moneta messa a frutto passando dalla gratitudine umana ad una soprannaturale da un desiderio terreno ad uno ultraterreno mostrando una maturazione di spirito superiore a quella di quasi tutti dico quasi perché fra voi che mi udite vi sono perfezioni uguali e superiori ancora non mi ha chiesto di seguirmi anzi ha mostrato il desiderio di compiere la sua evoluzione da fanciulla ad angelo nel segreto della sua dimora evoluzione da fanciulla ad angelo nel segreto della sua dimora eppure tanto io la amo che nelle ore di disgusto per ciò che è il mondo io rievocherò questa dolce creatura benedicendo il padre che mi asciuca lacrime e sudori di maestro di un mondo che non mi vuole con questi fiori di amore e di purezza due considerazioni conclusive che siamo fuori tempo massimo primo la gioia che a Gesù danno le anime vergini e il ribrezzo di cui ha parlato proprio il fetore l'orrore che prova nella la nausea della triplice libidine del mondo nausea che lo schiaccia i peccati impuri sono quelli che fanno più ribrezzo al cielo non sono i più gravi ma sono certamente quelli più nauseabondi uno due il mettere a frutto le grazie del Signore questa ragazza e qui Gesù ne ha adesso un grandissimo elogio ha saputo lavorare il miracolo anche se non abbiamo avuto miracolo nel Signore abbiamo avuto le grazie ma noi le grazie dobbiamo farle fruttificare e non possiamo lasciarle lì non dobbiamo pensare ad automatismi grata per il per il miracolo quindi meritato la salute grata soprannaturalmente desiderio terreno o che bello posso sposarmi più presto possibile ultraterreno sacrifico il matrimonio per essere tutta di Gesù maturazione di spirito gli spiriti maturi cioè un processo ribadisco pienamente appartenente a questa ragazza certamente suscitato e provocato dalla grazia ma questa ha fatto le cose doveva fare convintissima ha fatto le sue offerte convintissima senza volgersi indietro senza essere in nessun modo plagiata condizionata manipolata come dire senza zero una grande maturazione spirituale e questo è importante per tutti noi perché tutte le nostre scelte di vita piccole e grandi devono essere sempre un frutto di lavoro su noi stessi fatto facendo fruttificare le grazie che il Signore ci dà lavoro che genera decisioni coscienziose coscienti libere spontanee gioiose ferme e definitive questa è una grande vita cristiana e sa prescindere dalla dimensione particolare della virginità e questo è un insegnamento che rimane per tutti anche per quelli che non sono come un alia chiamati a far parte della schiera dei virgini e delle vergini sapete che oggi non da tutti è compreso il celibato sacerdotale moltissimi istituti religiosi femminili sono in crisi di vocazioni perché c'è stata una bombardata spaventosa insomma contro il valore della virginità io credo che sia compito di tutti tutti anche le persone che vivono nel matrimonio reinteriorizzare la straordinaria bellezza di questo di questo tono di questo carisma di questo mistero che tutti dobbiamo vivere e custodire i genitori questo lo devono trasmettere ai figli e non lo devono trasmettere non devono trasmettere soltanto un'imposizione per carità che è vero deve arrivare la virginia al matrimonio non devi fare i peccati impuri eccetera eccetera questo certamente sì d'accordo ma occorre come in tutte le cose far innamorare della bellezza dei valori chi è vergine si tornerà completamente a dio se quella è la sua strada completamente al proprio sposo se quella è la sua strada chi la virginità la perde certamente a fatica potrà recuperare alcune cose ma perde questo sigillo questo questo crisma questo 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 surplus diciamo così della totalità basta sentire sotto questo punto di vista per chi volesse approfondire sempre nella mia playlist di youtube purezza e la testimonianza per esempio di quei due grandi ragazzi americani adesso sono felicemente marito e moglie ma dei grandi testimoni che sono jason evert e cristalina non mi ricordo come si chiama di di cognome e cristalina a differenza di jason non è arrivata vergine al matrimonio e dice quello che lui mi dirà e quello che lui mi darà io purtroppo non glielo posso dare lui lo darà a me e io non lo darò a lui certo lui lo sa e mi ha perdonato però ecco lui me lo darà io non glielo darà non glielo darò perché jason non conoscerà altra donna che cristalina e cristalina prima de jason ha conosciuto un altro po' questo purtroppo non si può cambiare nemmeno con la conversione ecco questo non deve indurre disperazione mi raccomando questo non viene detto per far sentire male chi è caduto ma viene detto per prevenire le cadute di chi ancora non è caduto bene ci sentiamo alla prossima la mia benedizione a tutti Dio vi benedica Ave Maria di Dio vi benedica di Dio vi benedica